eritis sicut di sarete come divinità sono queste le parole insidiose che il serpente in genesi rivolge ad adamo ed eva segnatamente a eva per persuaderli a violare la sacra legge posta in essere da dio il l'inganno la tentazione prodotta dal serpente rappresenta la grande tentazione della hubris della tracotanza di chi trascende il giusto limite il limite della legge il serpente sotto questo riguardo rappresenta la tentazione che da sempre insidia l'uomo a superare il giusto limite a sostituirsi al divino distruggendo ogni possibile confine la tentazione messa in opera da genesi e la tentazione stessa della civiltà contemporanea che è una civiltà che effettivamente dissolve ogni tabù vivendolo come un limite che deve essere superato l'idea di limite non viene percepita come la legge che permette alla natura umana di evolversi alla cultura di svilupparsi alla civiltà di progredire al contrario il limite viene vissuto e percepito come una limitazione perigliosa che deve essere superata in quanto tale è la cultura dell'illimite la nostra è la cultura che si è consegnata totocielo alla alle insidiose parole del serpente l'uomo contemporaneo un uomo che ha smesso non solo di rispettare la legge ma di credere financo in dio come legge di tutte le leggi potremmo dire così la morte di dio messa a tema da nicce dice essenzialmente questo il processo di svalorizzazione dei valori è il processo di crollo di ogni di ogni legge di ogni norma per questo il padre anche il padre eterno a maggior ragione il padre eterno è la figura della legge il padre pone in essere la legge divide ciò che può essere fatto da ciò che non può essere fatto e in questo modo permette grazie alla forza della legge di evolvere di progredire di avanzare senza legge il desiderio naufragherebbe diverrebbe mortifero e dissipativo e solo grazie a una legge che a mo di argine gli permetta di crescere come un fiume che grazie al letto che lo ospita può avanzare senza disperdersi così la legge opera sul desiderio e permette l'evoluzione ecco il serpente promette invece il superamento della legge come unica possibilità di evoluzione e quindi vi è l'inganno in questo paradossalmente la vicenda di genesi allude anche al fatto che a determinare l'abisso nel quale l'uomo precipita è la sua pretesa di emanciparsi da tutto e di tutti e di trasformarsi esso soltanto in dio quindi in colui che dispone dell'essente nella sua totalità disconoscendo la natura umana limitata la dipendenza creaturale dell'uomo da dio per i cristiani o la dipendenza dell'uomo dalla physis di cui egli è espressione per i greci la civiltà della tecnica è la civiltà che ha fatto tesoro del mendace insegnamento del serpente da che ha disconosciuto ogni limite ogni parola del padre e l'idea stessa di padre non solo il padre biologico non solo il padre dei popoli la patria ma fin anche il padre di tutte le cose il padre eterno una società senza leggi non per caso la deregulation viene celebrata a pie sospinto non come l'attuazione perigliosa dell'insidia del serpente ma come l'unica fonte possibile di liberazione e in questo l'uomo pensa di realizzarsi appieno quando si perde in questo senso aveva ragione heidegger probabilmente la civiltà della tecnica nella quale l'uomo si perde quella in cui l'uomo proditoriamente si illude di poter disporre senza più limiti e senza più tabù dell'ente nella sua totalità ma proprio questa idea perniciosa del poter disporre dell'ente nella sua totalità si capovolge in una concezione quella tecnonichilistica contemporanea per cui tutto compreso l'uomo viene disposto in realtà dalla tecnica che assorge a soggetto assoluto di questa civiltà gestel direbbe ancora heidegger nel gestel risuona chiaramente lo stelle nel porre il disporre l'impianto impositivo potremmo tradurre così ecco il serpente che riesce a persuadere ad amo ed eva a violare la legge il nomos il giusto limite produce non già libertà sviluppo ma al contrario la perdita di una condizione positiva quella in cui la legge permette all'uomo di svilupparsi appieno per questo nell'insegnamento di genesi del rispetto della legge senza il quale rispetto si precipita nel nulla della civiltà mortifera in cui la legge viene dissolta vi è un insegnamento fondamentale da cui ripartire è una variazione cristiana se si preferisce è la variazione cristiana par excellence del limite greco del del metron ariston la misura come cosa migliore a cui attenersi per i greci era la physis dicevamo la misura per i cristiani è dio come colui che crea gli essenti uomo compreso per i contemporanei che non credono più nella physis e non credono più in dio resta solo il fare fine a se stesso della tecnica che di tutto può disporre senza limiti e quindi l'unico limite che conosce la civiltà della tecnica è quello della fattibilità delle cose che di volta in volta viene superato e il limite è ciò che ancora non siamo riusciti a fare ma lo supereremo e potremo fare anche ciò che finora non abbiamo fatto e quindi il progresso tecno scientifico contemporaneo in questo consiste nel superare ogni limite e nel trasformare questo superamento del limite nel fine stesso l'orientamento teleologico nichilistico della civiltà della tecnica sta nel superare i limiti presentando questo superamento del limite infine in quanto tale la tecnica è capacità infinita di creare fini diceva emanuele severino quindi è capacità infinita di superare limiti in vista del superamento dei limiti che diventa esso stesso il fine ultimo ed è ancora una volta l'insidiosa promessa del serpente che viene accolta anziché essere respinta grazie a tutti